Stangastello mi diamo le sigate mi diamo le sigate quest'anno, fra una settimana va a scuola comincia pure la catechismo Don Valè, Don Valè non per prendere ma Cristia potrebbe fare la comunione perché il catechismo lo sa tutto e sa come fa la regina sa la regina so sa tutto e sa la nonna e sa la nonna aspetta un po' tu la metti a te ecco un minuto dovete sistemare una stuaglione perché se no si accorgine si perché evidentemente il dottorilla c'è l'apparatore ma c'è l'apparatore